Tra l'altro, se incerto mangia una merda, è uno, però la vuole mangiare. Quell'uno, comunque, ve la chiamato, in un modo dell'altro, fai. Quell'uno, comunque, ve la chiamato, in un modo dell'altro, è uno, però la vuole mangiare. Quell'uno, comunque, ve la chiamata, in un modo dell'altro, è uno, però la vuole mangiare. Partiamo dal scopo tecnico, rispetto alle 10-11, con l'attività di si, la piccola di ammettrici, di posto, miniche. Non si state giocate, non la vena state, non so che te lo dite a sette, se ti rubano l'emozione, se ti rubano l'emozione, se ti rubano l'emozione, se ti rubano l'emozione, se ti rubano l'emozione. Libera, 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 libera la rammuzione. Libera, 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 libera la condizione. libera, libera... si z fug canvalente mia! Ci pince una malattia! si z fug canvalente mia! Ci pince una malattia! frate potenza mille potenza mille frate giallo giallo Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, Lauren,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Grazie.